Vicenda IPAB, Castellammare del Golfo, Opera Pia, Regina Elana. Siamo arrivati diciamo al congelamento del decreto di estinzione, perché la gente da casa possa capire meglio di cosa stiamo parlando. Un bel giorno la Regione Sicilia, nel mese di maggio, stabilisce che l'IPAB va estinta. Di conseguenza, secondo l'interpretazione di una norma, che è il secondo comma dell'articolo 34 della legge 22 dell'86, quindi di un'epoca fa, quella norma, secondo la loro interpretazione, significava che tutto quanto passava al Comune. Non solo i beni patrimoniali, peraltro questo è sancito da un'altra legge successiva, che è del 1999, l'articolo 60 della legge 10 del 99, che chiarisce in maniera inequivocabile che i beni patrimoniali vengono riferiti al Comune. A prescindere da tutto questo, il Commissario ha pensato che ci fosse un automatismo, quindi un decreto, tutto quanto al Comune, quindi i dipendenti, i debiti, che sono più o meno 2 milioni di euro, e tutto quanto viene riferito al Comune. Non potevamo accettare questo, ma non perché ce l'abbiamo con i dipendenti, perché se il Comune di Castellammare si fa carico di questi debiti, il Comune va in default, in deficit, in dissesto. Se va in dissesto non può assumere nessuno, né può contrattualizzare i dipendenti che ci sono. Allora cosa avete deciso di fare? Abbiamo contestato tutto questo e il TAR ci ha dato ragione. Ci ha dato ragione nel senso che il decreto va approfondito, perché non c'è l'automatismo, ma nel merito bisognerà entrarci. Il 30 giugno del 2017. E deve essere chiara una cosa, che il Comune non ce l'ha con i dipendenti, assolutamente. Ho scritto una lettera pesante al Commissario. Ho chiesto che i lavoratori dell'IPAB devono essere rispettati, perché i lavoratori hanno prima di tutto una loro dignità. In questo momento, per tanti anni, sono state create attese per questi dipendenti. La Regione siciliana, attraverso i suoi organismi, che sono assembleari, deve farsi carico del futuro di questi dipendenti. Non solo di questi. Non le puoi scaricare ai Comuni. Non le puoi scaricare ai Comuni. Ce ne sono più di 600 in tutta la Sicilia. Così come fa le gine per tutti gli altri, che le faccia anche per i dipendenti dell'IPAB. Viene facile scaricare i problemi della Regione sui Comuni. Ma il Comune non ce l'ha questa... io li prenderei pure a volentieri, ma il Comune non ha questa possibilità. Quindi i lavoratori devono sapere, chiaramente, che non è una questione contro di loro. Io ho chiesto il rispetto per la loro dignità, perché sono persone che non possono essere trattate così come lo sono da anni. È giusto che abbiano un futuro, per carità. Ma la Regione si fa scarico del futuro di 600 dipendenti circa, che ci sono in tutta la Sicilia. Noi possiamo affrontare il problema patrimonio, ma non possiamo affrontare né deficit né stipendenti.